Jessica Deval Sì, ce la siamo scampata per un pelo, abbiamo buttato via appunto il quarto set, il terzo set, però sono stata felice di esserci ripresa in quarto perché era importante, era una partita che comunque sentivo tanto perché ero un'ex giocatrice dell'argentario, quindi comunque ne sono felice. Grazie che mi fai un palleggio perfetto ricordandomi che sei un ex perché in effetti dall'altra palleggio c'era il tuo passato e da questa parte c'è questa nuova realtà, c'è il volano, un nuovo gruppo, una nuova realtà, la B1, come è stato l'impatto di qua e che ricordi di là? Allora, beh, io non posso denigrare l'argentario perché comunque mi sono sempre trovata bene, con l'ex flying B1 devo dire che mi sono felice perché ci ho lavorato e è un altro livello, è un altro livello, però il gruppo per adesso sta funzionando, speriamo tante cose belle in campionato.